Siamo a Barcellona, all'anteprima internazionale della nuova Seat Leon SC, una nuova vettura sportiva che andremo a provare. Curve tornanti per le strade della Catalogna, la Seat Leon sembra aver raggiunto un'altra era più che un'altra generazione, più rigida, più bassa e più leggera, viene rivisitata nel design, rigenerando quelle parti della vettura criticate negli anni passati. E così, dopo la 5 porte, presentata solo pochi mesi fa, ecco la versione Coupé. Una famiglia che si allarga e che con questo modello si rivolge ai giovani, promettendo di emozionarli a colpi di passione sportiva e qualità. rifinita nei dettagli, dagli specchietti allo sportello all'inclinazione del portellone posteriore, Leon SC si presenta come una moderna compatta sportiva, per la prima volta diventa tre porte e grazie alla piattaforma Volkswagen sulla quale è costruita, continua a vantare modularità e spazio a tutto vantaggio del tempo libero dei giovani clienti a cui punta. Non a caso aumenta anche la capacità del portabagagli e diventa più efficiente nei consumi, con prezzi che partono da 17.600 euro. I'm not sure if I love you, I am insecure, I can see so many, cause I wanna date, I'm not sure if I love you, I am insecure, I can see so many, cause I wanna date. way. 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 Grazie a tutti.